buongiorno volete anche voi un pavimento lucido sgrassato e super profumato vi dico cosa dovete fare in un secchio con dell'acqua molto calda dovete mettere qualche goccia di detersivo per i piatti io ho usato questo nel senna la lavanda che tra l'altro lascia un bel profumo ma la chicca è questo delfino detergente profumato per pavimenti e superfici lavabili io l'ho trovato dai cinesi l'ho pagato 1,30 euro devo dire che questa combo questa combo è ottima pavimenti sgrassati lucidi e super profumati praticamente il profumo che rilascia questo detersivo è come se avessimo lavato i pavimenti con un profumo di chewing infatti adesso si sente appunto questo profumo di big bubble in casa io ve lo consiglio se vi piace l'idea provatevi intanto buona giornata a tutte ciao